Antonio Mazzeu. Emergono tanti dati interessanti nell'ultima indagine statistica del CESVOT che è stata presentata questa mattina. La pandemia toscana ci ha reso più solidali altruisti ma anche fondamentalmente più soli. Sono dati che emergono dal secondo rapporto sociometrica presentato in queste ore a Firenze, presente anche il presidente della regione Eugenio Gianni e commissionato dal CESVOT, il centro servizi del volontariato toscano. I numeri. Solo il 3% del campione, molto ampio, non conosce il volontariato. Per 7 persone su 10 nella nostra regione è necessario aiutare chi ha bisogno, nell'ordine soprattutto anziani non autosufficienti, poveri ed emarginati e disabili. Al quarto posto ci sono le donne vittime di violenza. Una persona su tre dice di volersi impegnare direttamente sul campo. Il giudizio sul volontariato è estremamente positivo. Supera il 90%. Emerge anche qualche nuovo bisogno. Colpisce la solitudine avvertita dal 77% degli 800 intervistati e che penalizza soprattutto, un po' a sorpresa, i più giovani. Nel sondaggio c'era anche una domanda sull'organizzazione della sanità che la maggioranza delle persone vorrebbe più vicina a sé nel proprio territorio. In questa sanità più ramificata, più vicina al cittadino, il volontariato sempre, secondo i cittadini, dovrebbe svolgere un ruolo ancora più preponderato. Beh sì, molto interessante questa percezione dei toscani rispetto al sistema sanitario. Appare evidente che l'anello debole del nostro sistema sia ovviamente l'assistenza territoriale. I nostri reti ospedaliere, moderna, efficiente, produce un ottimo servizio. Purtroppo la difficoltà arriva quando questo servizio deve essere erogato a livello capillare, nel territorio, più vicino possibile al cittadino. E qui abbiamo le difficoltà che abbiamo riscontrato durante la pandemia. Il fatto stesso che questi cittadini intervistati dicano bisogna che sia più capillare, più vicino, non vuol dire riaprire piccoli ospedali. Voglio essere molto chiaro, almeno dal mio punto di vista, poi le decisioni della politica faranno il suo percorso. Vuol dire però organizzare l'assistenza territoriale in maniera totalmente diversa, in maniera più capillare, più vicina al cittadino, valorizzando le casse della salute, valorizzando i presidi che già esistono sul territorio. Per il resto la pandemia ci ha reso più solidali, almeno in Toscana, ma anche più soli. Sorpreso? No, non sono sorpreso perché passare un anno, soprattutto mi riferisco ai giovani non abituati a vivere in una dimensione confinata come quella dell'abitazione, studiare davanti a uno schermo, non avere la possibilità di socializzare con i propri coetani, nelle attività sportive, nelle attività ricreative, nelle normali attività di convivenza quotidiana, vuol dire spingere soprattutto per alcune categorie e per alcuni mondi anche ad atteggiamenti di solitudine. Primo aiutare gli anziani non autosufficienti, poi i poveri, poi i disabili, le donne vittime di violenza, insomma cambia un po' in parte almeno questa classifica delle priorità dell'altruismo, della solidarietà. Allora, rispetto a un anno fa dove queste categorie erano sempre considerate prioritarie per i cittadini toscani, scompare quasi totalmente l'aiuto ad esempio agli immigrati. Ecco, il fatto che, a mio avviso, questo argomento non sia nell'opinione pubblica, discusso quotidianamente sui giornali, nei mass media, eccetera, ha tolto l'attenzione come priorità. In realtà sappiamo bene che le esigenze di questo mondo rimangono totali, al di là delle scelte politiche.